Musica Caramici ben trovati, sfogliamo insieme la programmazione odierna. Tra poco i poliziotti dell'unità anticrimine della NCIS, successivamente in linea il consueto TG2 della sera. In prima serata Maurizio Battista in tutte le strade portano a alcune città estere, sono considerate da noi italiani luoghi da sogno, ma il nostro comico continua a mettere in discussione tale battuta troppo ricorrente. La puntata di questa sera è dedicata a Londra. Al termine l'informazione delle TG2 della notte. Conclude il grande cocomero tra il serio e il faceto, le interviste di Linus a personaggi dello spettacolo e dello sport. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata con Rai2. Arrivederci. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata con Rai2.